Bene, ci ritroviamo insieme, vado a dare uno sguardo al mio dispositivo per vedere se ci sono altre cartoline digitali, la regia magari me le girerà a breve. Nel frattempo noi vi porteremo in un altro posto molto ameno come quello degli scatti che ci inviate, infatti dobbiamo provare ora a collegarci con la Valle della Felicità, così la definisce il cuoco contadino Peppe Zullo che a Dorsara di Puglia, alle pendici dei Monti Dauni, coltiva questa felicità a colpi di erbe spontanee, di prodotti della natura per una sana alimentazione. Eccolo lì, lo vedo già collegato con noi, buongiorno Peppe, ben trovato! Buongiorno a voi, buongiorno dal paradiso, dai Monti Dauni, da questo luogo ancora incontaminato, grazie a Dio, in cui nasce e cresce di tutto di più e noi raccogliamo e cuciniamo, caro Tony! Non è un caso che oggi terrete un convegno proprio lì che si intitola Erbe spontanee e alimentazione mediterranea, sostenibilità e benessere a tavola? Sicuramente da noi questo è qualcosa che è stato sempre fatto a livello pratico, le nostre mamme, le nostre nonne, le nostre massaie che raccolgono ancora questo patrimonio che sono le verdure spontanee, però fare un convegno e parlarne pubblicamente anche con l'intervento di persone che hanno tutte le conoscenze della materia è un modo ancora più intelligente per rafforzare questo patrimonio che noi abbiamo. Eh sì, anche perché, insomma, magari le generazioni più giovani, distratte come sono da tante altre cose, potrebbero non valorizzare il patrimonio invece che appunto i nostri nonni ci hanno consegnato e che con il tuo prezioso lavoro rivive ogni giorno lì, nella valle della felicità. Beh, la verità dobbiamo dire questo, qua, insomma, ecco, diciamo un po' tutta l'Italia è una valle della felicità, però i Monti Dauni io dico che hanno un po' una marcia in più perché è un territorio incontaminato, perché quando parliamo di raccogliere erbe spontanee bisogna trovare anche il luogo in cui non ci siano contaminazioni, mi seguo, perciò che nei nostri prati, nei nostri boschi questi prodotti nascono ancora in modo naturale e sono, secondo me, raggiungono un livello di qualità superiore, un po' perché siamo sui monti, perciò anche più fresco, ecco, purtroppo il caldo, specialmente di questi periodi, molte erbe le stanno, diciamo, un po' seccando, diciamo, però da noi, ecco, nei boschi, col fresco che abbiamo, insomma, si riesce a trovare un bel po' di roba, insomma, e come dire, poi questa giornata è una giornata particolare perché ci sono varie forze, insomma, ecco, cittadinanza attiva, associazione dei consumatori, insomma, prendono un valore in più, cioè c'è un interesse da parte anche a livello regionale, a livello delle scuole, avremo delle scuole anche ospite qua, perciò diciamo che divulgheremo non solo a livello, diciamo, locale, ma anche a livello regionale, ma nazionale, perché no? Poi, visto che ci sei tu, che sei il grande comunicatore, sicuramente questo, questa nostra, questo nostro video avrà ancora più, come dire, gente che lo seguirà, dai! Allora, che io sia un grande comunicatore è tutto da dimostrare, invece è cosa certa che tu sei il cuoco contadino più conosciuto d'Italia e non sono io a dirlo, così come possiamo affermare che una sana alimentazione non può prescindere da un consumo consapevole. In studio, con me, c'è anche la collega Maria Pia Picciafuoco, alla quale lascio spazio per una domanda. Sì, grazie. Io ho avuto il piacere di assaggiare alcune specialità veramente deliziose, però non ho provveduto, mi dispiace, ci ho pensato solo ora, ad armarmi di un erbario. Quindi, se per favore vogliamo fare quasi una sintesi delle erbe più importanti che ancora ci sono e che sono appunto gli ingredienti chiave della sua splendida cucina. Sicuramente, ecco, poi ecco, farsi un erbario dipende un po' dagli spazi, dipende dal luogo in cui viviamo, perché io penso, io molte volte consiglio, che ne so, anche su un balcone si possono fare delle cose simpatiche, però andrei più su delle aromatiche, per esempio, tutto quello che poi ci può servire in cucina per dare profumo e sapore, però tra le varie aromatiche, per esempio, io metterei del finocchietto selvatico che gli dà questo profumo ai nostri cibi, ma qualche cicoriella, e in più, ecco, che ne so, la stessa menta che in questo periodo dà freschezza, per esempio, la menta pulegium che dà dei sapori, dei profumi ai nostri cibi, la melissa, la verbena, l'elicriso, per esempio, l'elicriso, pochi conoscono a questo, diciamo, questo profumo, ma poi sapore in bocca, quasi piccante, quasi di liquirizza, già con delle aromatiche, secondo me, in cucina possiamo aiutarci. È normale che se uno poi ha un po' di spazio in più si può divertire con tutto il resto, insomma, manca avere un orticello, però noi oggi, a parte questo, parleremo proprio di quello che nasce, cresce in modo spontaneo, praticamente, se pensiamo, ecco, in questo periodo ci sono ancora un po' di cicoriella, un po' di bietra selvatico, un po' di spraino, un po' di burraina, ecco, la burraina, la burraina, che poi, insomma, è una delle mie erbe preferite, addirittura ultimamente ho fatto un intervento, ecco, sul cibo pitagorico, che poi Pitagora era un vegetariano, un appassionato di erbe e di radici, ma mangiava tanti fiori, lui era innamorato della burraina. Ho fatto questo intervento a Rabat, in Marocco, praticamente, collegandomi al cibo pitagorico e sono riuscito a fare dei piatti a base di burraina. Credo che la burraina, che è un'erba straordinaria, che nasce, cresce un po' da tutte le parti, addirittura noi la stiamo anche addomesticando, è un'erba straordinaria, insieme a tutte le altre erbe, se pensiamo, per esempio, io sono innamorato del marasciolo, ma la stessa cicoriella selvatica, la stessa rugola, queste erbe amare, una volta gli anziani dicevano erba amare, sono tutte erbe che poi, insomma, ecco, fanno bene alla salute, cioè di conseguenza, oltre a raccogliere il cibo che ci viene dato così, insomma, ci viene donato, però sono anche dei prodotti con la quale noi praticamente ci possiamo, non dico curare, però sicuramente vivere meglio. E poi, ecco, proprio in questi giorni, guardando in giro, ci sono tutte queste piante con dei fiori bellissimi, insomma, la malba con la quale si fanno le tisane, il verbasco che in questi giorni è straordinario, che ecco, non solo cibo, ma anche fare delle tisane per stare meglio e per, come dire, per vivere più felice nella valle della felicità. Grazie, grazie Peppe, anche perché poi tante volte quando cuciniamo le nostre verdure, quell'acqua di cottura in maniera un po' sciocca, la buttiamo, invece quell'acqua ha raccolto tutti i sali minerali, tutte le vitamine di quelle piante e quell'acqua andrebbe conservata e bevuta, caldo o fredda, proprio come una tisana. Tu hai fatto, hai citato anche delle espressioni dialettali, ma per passare dal dialetto all'inglese, tu tante volte che vieni da una lunga esperienza americana, dici simple food for intelligent people, ecco, sapersi nutrire della semplicità perché a volte tanti artifici non valorizzano quello che la natura di se stesso ci offre, il caso della borragine è emblematico perché sei riuscito a valorizzare quest'erba spontanea, facendola diventare un'ostrica di montagna. Beh, sicuramente poi il compito del cuoco è quello di prendere queste erbe, queste verdure e dargli dignità, per esempio a parte l'ostrica, poi poi la borragine ha questo retrogusto, questo profumo un po' di mare, abbiamo creato la nostra praticamente parmigiana di borragine che ormai è un piatto che sta spopolando, e questo ci fa piacere, io credo ecco anche questa è semplicità, riuscire a fare grandi piatti con dei prodotti nostri, se poi selvatici o come dire prodotti che ci crescono intorno a noi e dargli un valore è una cosa importante, poi ecco citando il simple food for intelligent people, ecco la semplicità, secondo me la semplicità è una cosa importante in tutto, ma in cucina sicuramente anche di più, perciò quando parlo di semplicità io parlo anche che un piatto deve essere riproducibile, se io do una ricetta una deve poter fare, e poi ecco in questa frase semplice, riproducibile, ma anche salutisticamente buona, perché il cibo non ci dovrebbe far male, insomma, e in più io dico anche democratico, ecco il fatto di utilizzare queste materie prime, che diciamo ecco non hanno grandi costi, alla fine si fanno dei piatti strepitosi, meravigliosi, e io poi cito sempre quando ho presentato questo piatto al George Brown College in Canada, con questa mia filosofia sul simple food for intelligent people, alla fine che cos'era il piatto caro Tony? Mi sono portato in valice un po' di fave bianche, presidio slow food di Carpino, una bottiglia di peranzana, non ne vogliono gli amici della Coratina, sono andato da un amico a St. Clair, che aveva un backyard con un po' di cicorie canadesi, come dire, perciò tre ingredienti, la purea dei fava, proteine senza grassi, un grande olio extravergine di live e delle cicorie, perciò con tre ingredienti la semplicità in cui si esprime il massimo della salute, ma anche del cibo democratico, che non ha grandi costi. È vero, vero, grazie, grazie mille Peppe per aver riempito di profumi questo nostro collegamento. Noi ti lasciamo a questo importante convegno, erbe spontanee e alimentazione a Mediterranea, quindi vi auguriamo un buon lavoro e speriamo di ritrovarti presto. Grazie Peppe. Un abbraccio a tutti voi, vi aspettiamo con una bella ostrica di montagna, ciao! Ciao, ciao Peppe, sempre simpaticissimo, fortissimo, tanta energia, Maria Pia, indispensabile, soprattutto quando si abitano queste aree interne così ricche di valori, di prodotti, ma che bisogna condividere con gli altri, farle conoscere. E buon per lui, ma soprattutto buon per chi abbiamo sentito sia in Africa che nel Nord America già hanno conosciuto alcune delle sue ricette così essenziali, elementari, eppure, come tante volte capita, uniche in qualche modo. Eh sì, poi i nostri telespettatori più attenti avranno riconosciuto Peppe Zullo, che appunto tante volte è ospite anche di grandi emittenti nazionali, dove porta questo messaggio di genuinità, che il cibo sia la nostra medicina, quindi. Bene, adesso ci fermiamo ancora per qualche istante, poi ci ritroviamo insieme con l'ultimo collegamento di oggi.